Questa visibilità in giro per il mondo è fondamentale. Governatore, oggi questa visita all'Udinese Calcio ci sono ovviamente sinergie comuni tra la Regione Friuli Venezia Giulia e questa brand che può portare molto in alto tutta la Regione. Lo sport per Regione Friuli Venezia Giulia è fondamentale. Io penso che proprio attraverso lo sport non soltanto si danno un orgoglio al territorio, un orgoglio alle popolazioni che insistono in Friuli Venezia Giulia, ma si può fare molto anche per promuovere la nostra Regione e soprattutto con realtà come l'Udinese che hanno rilevanza internazionale e quindi abbinare i nostri prodotti, le nostre tipicità, il nostro territorio. A chi può portare questa visibilità in giro per il mondo è fondamentale. Su questo noi ci crediamo molto e penso che potremo fare degli ottimi progetti insieme.